Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana in FIPILI. Segnaliamo che in A1 sul tratto appenninico è prevista neve, ricordiamo che è obbligatoria, la dotazione invernale. Sempre in A1, fare attenzione per nebbia banchi, segnalata tra Incisa Reggello e Valdarno. Passiamo alla FIPILI dove è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Prima di salutarci, passiamo al raccordo Siana-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata per lavori, tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!